i para spruzzi sono stati messi è molto morbido però fa la sua parte ok non so come mai ma vengono fuori queste macchie nere non si sa se è sporco per esempio qua non vengono fuori anche di qua vedo che c'è poco ma c'è mentre di qua nulla probabilmente è proprio è proprio solo sporco è solo sporco grasso va a sapere eccoci qua niente abbiamo fatto il trattamento con questo shampoo anti ruggine lavata con appunto acqua e questo detergente andiamo una botta anche per prepararla per l'inverno dai rubber dai dalle guarnizioni dei vetri ogni volta tu le lavi scende sempre il nero io non so se piano piano si stanno consumando guarda capito tu continui a lavare niente continua a uscire il nero da sotto capito vabbè comunque noi abbiamo dato questa lavata adesso l'asciughiamo a secco no questa la sto togliendo qui ho messo i i para spruzzi non tanto da questa parte quanto da questa che evita che tutto il fango si attacchi e la neve si attacchi a quel fanale della retroma della antinebbia no perché sennò si piega e i fili si possono rompere con tutto il ghiaccio il peso del ghiaccio quindi adesso gli abbiamo dato una lavata e vediamo adesso di asciugarla tutta quanta non per metà e that's it adesso l'asciugiamo ecco l'asciugata mi sembra che vada benissimo ora non rimane che mettergli la cera questo è il cristo che ho usato no questo shampoo sarei quasi tentato di metterne un po' su un panno e poi metterglielo sopra aspettate che si asciughi ma sai che quasi quasi faccio così gliene metto un po' su un panno glielo passo sopra no e dopo di che aspetto che si asciuga e poi gli metto la cera ecco gli abbiamo dato la la finale con lo straccio inumidito di quello shampoo guarda 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 capito e poi mi colla comunque ecco adesso è molto meglio una volta lavata che devi ripassare ancora questo sempre no asciugatura secco capito gli passi lo straccio adesso quasi deve ancora asciugare quasi ancora asciugare però si sente bella liscia ok la mascherina la mascherina i fanali i fanali si asciughi un attimo intanto vado fare un'oretta di stretching e aspetto che si asciughi e dopo di che caspita i cerchioni erano cioè e dopo di che gli metto la cera ma i cerchioni non so come mai si usciva tutta questa cosa vabbè in ogni caso si pulisce no va bene qua si vede che è ancora opaca qua così non so come mai devo aspettare che si asciughi o forse lo straccio era un po' grisi dopo controllo adesso e poi abbiamo messo anche di nuovo il silicone spray intorno alle guarnizioni sia dentro che fuori no adesso non si vede però appena dato quindi è bagnatino il sole autunnale speriamo che ops il sole autunnale speriamo che me la cavo no no adesso è kind of shining abbiamo messo tutto intorno tutto intorno e anche qua sotto direi che va bene no quelle piccole punte così di ruggine qualcuno è rimasta questa stella stiamo togliendo solo che non ho più unghie mi sembra che ok volendo gli potrei fare una sorta di piccolo una pedana alta al punto di poter mettere questi due puff potrei metterla per evitare avere un po più spazio per mettere sotto delle cose e anche per avere un distacco dall'entrata al posto letto quindi almeno hai una una piccola pedana sopra che ti permette di essere un pochettino più in alto e non ricevere questa terrina che viene portata dalle scarpe grazie a tutti grazie a tutti